Nonostante la mia pettinatura imbarazzante, ragazzi, vi do il bentornati in un nuovo episodio di Oli e Benji su FIFA. Ragazzi, oggi partita importantissima perché è una partita di coppa e giochiamo contro il Quanzu, che all'andata ce ne ha date. Tecnicamente, se vinciamo, passiamo al girone successivo. Formazione strarimaneggiata per l'occasione. In porta a grande richiesta torna Alan Crocker. Terzino sinistro, un'altra grande richiesta da voi, Billy Kramer. Bob Denver, centrale, insieme all'idolo di tutti voi, ragazzi, Arthur Foster, titolare. A destra abbiamo Taylor, centrocampo con Newman, Jack Morris e Carter. Mezza punta, il gran ritorno di Tim Vance, che sostiene l'attacco composto da Oliver Hutton e Johnny Mason. E si comincia, ragazzi, partita fondamentale perché se vinciamo siamo qualificati. Johnny Mason. Ted Carter. Attenzione! Oliver Hutton! Uh, fuori. Ci abbiamo provato subito, va bene. Ma non era Oliver Hutton, era Newman. Ecco, ora si spiega il tiro schifoso. Uh, attenzione. Ancora la new team. Tim Vance. Che schifo Tim Vance che fai. Ancora attacca. Ancora attacca, Paoligno! Meno male, meno male. Ecco la new team. Taylor. Johnny Mason. Ovviamente perde palla. Ovviamente perde palla Johnny Mason. Fa cagare. No, non fanno crostare! Madonna! Foster! Che crocker! Che duo! Partita molto tirata, ragazzi. 21esimo minuto. Non ci sono state vere occasioni da gol. Pallone per Oliver Hutton. Lanciato lungo. Olli. Aggaccia il pallone. Olli. Tiro! No! Mannaggia, c'è mancato poco. Il portire devia. Pallone in mezzo. La difesa è la meglio e allontana il pallone. Arthur Foster! Tiro di fallo! Fa ridere. Uh, attenzione che c'è un fallo qui, eh. Fallo là non si fa arbitro. Cartellino fucsia! Caccio di punizione. Oliver Hutton ha la battuta. Tiro di Hutton. Buuuu! Raga, guardate di quant'è uscita! Madonna! Attenzione che ancora attacca il quanzù. Non fatelo classare, Arthur Foster! L'immensità fatta persona. Mio Dio, fermalo! Ma crocker! 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 Alan Crocker, miracolo! Miracolo di Alan Crocker! Ragazzi, è da rivedere. La parata del secolo. Guardate, guardate. Il tiro fortissimo. Ma Crocker si supera. Dimostrando che lui non è da meno di Benji. È un fenomeno. Ancora Taylor. Taylor. Si ferma. Numero. Attenzione! No! Carter! Tiro! Fermo! Mannaggia. Ma una bellissima new team, signori, quest'oggi. E devo dire che quelli che mi stanno piacendo di più stranamente sono... Arthur Foster e Alan Crocker. Sì, ragazzi, attacca il quazù. Madonna! Questo è proprio l'arbitro di Olly e Benji. Cioè, ha fischiato mentre loro stavano andando in porta. Comunque, finisce il primo tempo. 0-0. Ma partita ricchissima di emozioni, signori. Si riprende. Il secondo tempo. Risultato 0-0. A noi ci potrebbe andare bene pure il pareggio, comunque. Ma noi non ci accontentiamo. Soprattutto avendo Billy Kramer e Arthur Foster in campo. Figurati se ci accontentiamo del pareggio. Guardate che apertura! Taylor! Si ferma Taylor! Cerca l'appoggio del compagno! Tiro! Oh! Traversa! No! Incredibile, signori, quest'oggi. Cosa sta succedendo in campo? Un po' di sfortuna si sta mettendo contro. Vabbè. E ora che attacca il Quanzu! Dalla sinistra! Numero! Vediamo! Arthur Foster e poi Crocker! Fermano l'azione! Bravissimi il duo! Attenzione, attacca il Quanzu da sinistra! Bob Denver! Mannaggia! Citofono! E Deliveroo! Devo rispondere! Eccoci ragazzi! Scusate l'interruzione! Aveva bussato il Deliveroo per la consegna! E tra l'altro vedo che c'è un Ciro dietro... Di qua! Ciro! Eccolo papà! Continuiamo la partita! Non fateli crossare! No! Tunnel! No! Pfff! Meno male raga! Meno male! Meno male! Guardate qua! Questa è la... Questa è la... L'azione di Prim! Guardate lì! Guardate! Non si ferma il Quanzu e attacca in modo spietato! Pfff! L'azione sulla destra! Maddonna! No! Guarda che cavolo però! Stiamo giocando benissimo! Mannaggia! Non meritiamo proprio di stare sotto! Raga! Non possiamo perderla! Altrimenti rischiamo la qualificazione! Ecco ancora il Quanzu! Comunque tutti i gol di testa prendono! Manco un tiro di... Normale fate! Cioè solo di testa ormai segnate contro di me! Questa è rivolta a tutte le squadre! Corre il Quanzu che attacca! Madonna mia! Che pericolosità! Che pericoli! Ragazzi proviamo la mossa! Entra Paul Diamond! Esce Tim Vance! Calcio d'angolo! Stiamo attenti! Il pallone al centro! Troppo al centro! Bravo Alan Croker! Che parte! Non si sa dove va! Fermati! Basta! Abbiamo scherzato! Che sta succedendo? Attacca la new team! Attenzione! Limite dell'aria! Paul Diamond! Tiro di Diamond! No! Raga 10 minuti alla fine! Pallone al centro! Croker! Ah! Che sta succedendo? Attenzione! Tiro! Goal! Goal! Il palaggio! 85esimo minuto! Pareggio di Ted Carter! Coi denti l'abbiamo preso sto fareggio! Coi denti di Ted Carter! Anzi col dente di Ted Carter! 85esimo minuto! Ma che goal signori! Che goal! Ma è possibile che io devo soffrire sempre così tanto e acciuffare le partite sempre all'ultimo secondo? Limite dell'aria! Ted Carter! Ted Carter! Jill Taylor! Si ferma Taylor! Attenzione! Tiro! No! Che la mandata! Johnny Mason! Mamma mia! Ma chi se non Johnny Mason poteva... Come si fa a un metro e mezzo di distanza dalla porta a tirarla in cielo? Ragazzi fermiamoli! 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 No! Tadadada! Bene! È finita! Che sofferenza ragazzi! Che sofferenza! Un Ted Carter! Fenomenale! Che ci dà il pareggio all'85esimo minuto? Non ne vinciamo più una ragazzi! Non ne vinciamo più una! Tutti i pareggi all'ultimo minuto! Va bene così! Noi come al solito ci rivediamo in sala stampa per andare a rilasciare l'intervista! A dopo! Sì sì è stata una bellissima partita! Quelli che mi sono piaciuti di più sono stati Arthur Foster e Alan Croker! Sentito Benji? Eh! Alan Croker! Ti fotte il posto! Beh la posizione in classifica in coppa è buona quindi purtroppo non siamo ancora matematicamente qualificati dobbiamo per forza vincere la prossima ora pensiamo al campionato e va bene così mi rendo conto di avere la voce di un transessuale del Panama ma sono le 9 del mattino di domenica e mi sono appena svegliato per fare questo video quindi ragazzi io invito a tutti i tifusi della New Team di iscriversi al canale per non perdervi nessuna partita noi ci vediamo al prossimo match qui sempre sul canale di Dario Augusto IV ciao ciao